In piedi, busto diritto e gambe leggermente flesse. Sollevate le braccia in verticale, e rivolgete i gomiti in avanti. Piegate leggermente i gomiti, in modo che i manubri siano leggermente arretrati rispetto all'asse del busto e delle braccia. Scendete all'indietro con i manubri, facendo attenzione che i gomiti non si divarichino verso l'esterno. Ritornate alla posizione di partenza.